Giving my boyfriend morning kisses with a fish Allora, avrei qualche domanda da fare a questo ragazzo Numero 1 O la tua ragazza non si lava mai i denti e c'ha un alito che puzza più delle fogne E quindi non lo capisci Cioè, come fai? È un becce, madonna, la puzza si sente fino a qua Domanda numero 2 Se ti sei svegliato, perché tieni gli occhi chiusi ancora? Domanda numero 3, che non è neanche una domanda È più fake dello schifo sto scherzo, quindi fatti curare Grazie